Grande paese l'America per 3 dollari e 99 ti vendono questa roba qui che è un vassoio per la torta del compleanno. E basta premere questo bottone e voilà! Bella o no? Ma non è tutto. Se uno preme il bottone la seconda volta, voilà! E se uno preme il bottone la terza volta, ah che meraviglia! Viva l'America! Guarda, guarda, guarda che roba! Guarda, fa tutti i giochini! Gran paese, grande paese l'America! Ok? Spegniamo! Buon compleanno a tutti! Nell'attesa del buon Natale! Ok? Bye!